Valeria Marini questa sera entrerà nella casa del grande fratello VIP. Nella nuova puntata del reality non mancheranno di certo i colpi di scena. Per la showgirl sarà un grande ritorno. Infatti, sappiamo che la Marini ha preso parte al cast della prima edizione. Con la sua simpatia saprà interagire con gli altri concorrenti. Sicuramente non mancheranno le risate. Naturalmente, l'escalation di Cecilia Rodriguez con Ignazio Museri in quest'ultima settimana, porterà a parlare ampiamente di loro, anche durante questa puntata. Non mancheranno neanche gli aggiornamenti riguardanti quanto accaduto, tra Eremies Rodriguez e Ida Iespica. Quest'ultima è attualmente al televoto contro Raffaello Tonone e Corin Cleary. Stando alle prime indiscrezioni, i tre concorrenti che si stanno sfidando al televoto si ritrovano sulla stessa barca. Infatti, il pubblico sembrerebbe essersi diviso. Inizialmente sembrava certa l'eliminazione di Corinne, ma la Iespica in questa settimana non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico. In tutto questo, non vediamo l'ora di vedere la sorpresa di Valeria Marini. Inizialmente 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 Inizialmente